Prima di iniziare volevo dirvi due parole Intanto vi ringrazio per tutto il vostro sostegno che ci state dando attraverso i video Siamo quasi a 300 iscritti e quindi questo ci fa molto piacere Un'ultima cosa, io e Nike avevamo in mente un nuovo format E si tratta che il protagonista potresti essere proprio tu Vuoi sapere come? Semplicissimo Come ben sai ogni settimana, di solito il mercoledì pubblichiamo un nuovo video Che di solito al mese fa tra i 4 o i 5 video al mese Cosa faremo? Prenderemo i 4 o i 5 commenti più belli sotto i nostri video Quindi per ogni video prenderemo il commento più bello E poi ovviamente faremo un video a parte dove vi ringrazieremo Ovviamente se sei uno youtuber ti sponsorizzeremo Guarderemo il tuo canale, lo valuteremo Mentre se sei invece un iscritto normale ti ringrazieremo e basta Quindi ragazzi adesso vi lascio con il video e vi auguro buona visione Mi sono sempre chiesto Aspettate, prima ci vuole un caffè Se no non posso iniziare ragazzi No no Caffè? Mi sono sempre chiesto Qual è il giorno più brutto della settimana? Ciao sono Erz Non so voi ma ogni volta che viene lunedì inizio a tremare Non in questo senso Il lunedì è il giorno in cui penso a cosa scrivere Per poi girarlo in giornata Editarlo fino al martedì per poi pubblicarlo il mercoledì E non potete nemmeno immaginare com'è difficile scrivere un episodio che vi possa soddisfare Perché parliamoci chiaramente Se il video a me non mi strappa un sorriso Oppure non mi piace a prescindere Non verrà mai pubblicato Guardate questi sono molti degli episodi Tra cui ci sono quelli che non sono mai stati pubblicati Ecco come di solito il mio lunedì Oggi è lunedì Dobbiamo pensare al video Ai ai E' già passato un giorno Forse starei ridendo Ma ti assicuro Non è così Perché è difficile trovare l'ispirazione Per poi strutturare un episodio Potrei guardare la tendenza Come molti di voi mi hanno suggerito per trovare l'ispirazione Però non so se molti di voi hanno visto la tendenza su YouTube Per prima cosa ci sono 2000 parodie di soldi Che la potete trovare in diverse versioni e in diversi dialetti Le reaction per quanto riguarda il collegio Un programma televisivo che fino a pochi giorni fa Non sapevo nemmeno dell'esistenza E devo ringraziare Loris per questo Che ci ha fatto un video sopra Sì ve lo lascio qui in mezzo Bambini che fanno la Challenge Dance di Fortnite E ovviamente tutte le canzoni di Sanremo 2019 Quindi preferisco invece shareverlarmi per un'idea Che possa in qualche modo interagire con voi In modo tale da scambiarci le varie opinioni E con oggi è tutto ragazzi Secondo voi qual è il giorno più brutto della settimana? Raccontamelo attraverso i commenti qui sotto Se il video ti è piaciuto lasciami un like per supportare il canale Condividi il video con tutti i tuoi amici E non dimenticarti di iscriverti al canale Cliccando Location Games in fondo al video Attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i nostri video E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video in compagnia della piccola Nike Ci vediamo settimana prossima ragazzi Ciao! Ciao!